E' originario di Nocera Inferiore, ma residente a Bologna, l'imprenditore destinatario di un provvedimento cautelare eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna assieme al Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata e con il supporto dei militari in forza ai comandi di Lecco, Salerno e Verona. L'attività riguardato le province di Bologna e Salerno, l'imprenditore è infatti indagato per più delitti contestati in concorso con altre 15 persone anch'esse indagate. Di queste altre 9 sono originarie di Nocera Inferiore, una di Castellammare di Stabbia, una ancora di Bologna, un'altra di Milano. Tra gli indagati c'è poi anche un tunisino. Come detto, a dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere reale emessa dal GIP del Tribunale di Bologna sono state le fiamme gialle di Bologna. Operavano nel settore della ristorazione le società e le ditte individuali che sono finite al centro dell'indagine svolta sotto la direzione della DDA della Procura della Repubblica di Bologna e con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo che ne hanno ricostruito l'operatività. In particolare le ditte e le società in questione erano tutte intestate a soggetti prestanome ma di fatto gestite dal destinatario della misura cautelare. L'imprenditore salernitano infatti nel tempo aveva intestato fittiziamenti a familiari e a terzi soggetti compiacenti, beni ed utilità che invece erano a lui riconducibili per poter così eludere l'applicazione delle leggi in materia di normativa antimafia. L'uomo infatti era già gravato da pregiudizi penali tra cui anche la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore perché è accusato di appartenere ad un'organizzazione mafiosa di tipo camorristico. Oltre all'ipotesi di trasferimento fraudolento di valori le indagini dei finanzieri del nucleo polizia economico finanziaria di Bologna hanno anche permesso di documentare altre attività illecite, l'indebita percezione di erogazioni pubbliche ma anche poi episodi di usure e di estorsione nei confronti di soggetti che si trovavano in gravi difficoltà economiche. Una volta ricostruita la posizione patrimoniale di tutti gli indagati che era spropositata rispetto alle fonti reddituali che invece venivano dichiarate si è proceduto quindi al sequestro per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro di quote sociali, compendi aziendali, mobili ed altre utilità. Tra i beni sequestrati anche i redditi che derivavano dall'affitto d'azienda di un'attività di pizzaltaio e di asporto in un locale al centro di Bologna. Provvedimenti di perquisizione sono stati poi eseguiti anche in altre province oltre Salerno e Bologna, anche Lecco, Verona e Modena.